e si scambiano il parere critico dice la sua, il donna dice la sua, l'intenditore dice la sua. Quindi spesso le storie... Grazie. Allora, tu, parliamo un attimino del teatro alla scala, spero che vi piaccia, ci vedete qui a ballare? Allora, ragazzi, un attimino del teatro alla scala, prima il teatro Ducale Regio, il teatro Ducale Regio, lo so... ... ... ... Grazie. Grazie. Allora, nel 1976 per un piatto di fare le regio, che è mortale, è solvenzione che è costata 1.400.000 lire di all'ora. Quindi provate a fare il paragone, quando già di migliaia non si pagava. Immaginate i milioni. Quindi è venuta a costare una cifra incredibile. E' stato dato l'incarico all'ingegnere Piermerini, il quale ha fatto questo tiantara. Farete anche lo stile neoclassico, riportato ovviamente ai costituti. E' uno stile molto severo. Grazie. 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 di questa platea. Il palcoscenico è due volte la propostità di questa platea, e ti pensate, è immensa. Il palcoscenico è un grande in assoluto, è un grande parte di un'attività di un'attività. Un attimino la disposizione dei posti, come vedete la platea ha 600 posti, ci sono quattro ordine di banchi, quindi se provate a contare 1, 2, 3, 4, quelle di sopra sono le gallerie, le gallerie hanno l'inforzazione, le calcone, come allo stadio tanti, con un altro spazio dove ci sono cose. Come vi avevo detto, è chiuso, è chiuso a questo pannello perché dietro ci sono le bottine per le diapositive, sono delle enormi bottine, perché pensate che le diapositive non sono quelle nostre, sono delle diapositive alte 2 metri, e le proposte per chiudere tutto il marchio 20, il gentile, come il solito è un'attività di Passione del mondo. C'erano le autorità, ci rivolgono e ci è un'attività di pausa italiana, ci rivolgono i pari presidenti, è un'attività di pausa, di 10, ultimamente anche il giorno della tira c'era Paola di 10, ma non ha mai potuto dare perché era per la tenda, per l'esposizione della tenda. Spessissimo viene messa la canale 5, la televisione e viene appoggiata lì perché come vedete è la posizione centrale. Quelle di fianco al palco reale sono più care in costruzione di quelle laterali perché vedete lateralmente, ci sono 6 posti per ogni punto. Non ho più la voce, è vero che non ci sono i micro. Guarda qua le future ballerine. Ci siamo! Sparati! C'è un bicchierino capovolto, comunemente detto, ma si chiama rilevatore di fumo. Quindi molte volte qui basta un po' di polvere, ma polvere di fene per mettere in funzione questi rilevatori di fumo. Un giro alternativo che non sempre viene fatto. Io non posso fare se loro mi danno l'ok, altrimenti io mi devo far vedere la sala e poi uscirò. siccome si sono accorti che sono ballerine, vieni qui da fuori e tutto il resto ci sta giudando. Grazie!